Super bene! Presto entrerete in azione! A presto! fine del riscaldamento si aprono le tasche battle royale indica un punto di lancio per il team attenzione gas in avvicinamento procedere alla zona sicura bene gente vediamoci da fare attenzione gas in avvicinamento Grazie a tutti. 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 Il combattimento è iniziato. Puoi sfogarti su quei bastardi mentre aspetti. Ferisci il loro orgoglio con qualche insulto ben piazzato. O meglio ancora, prendili e sassate. Fai attenzione. Presto sarà il prossimo sei tu. Preparati. Vinci questo scontro e torni in prima linea. Perdi e per te è finito. Guadagnati la libertà. Guadagnati la libertà. Guadagnati la libertà. Buon costato per le peste. Ti rispediamo alla base. Imparate dalle sconfitte. Ok.